Se hai ricevuto un errore riguardo su Windows Update il codice 0x870661 è possibile risolvere il problema grazie a risoluzioni problemi e soprattutto facendo anche delle modifiche sul nostro prompt dei comandi. Quindi in questo caso andiamo un attimo su PowerShell, ovviamente facciamo tutto su Windows PowerShell e seguiamolo come amministratore. In descrizione ti ho lasciato così il link, ti ho lasciato così una serie di comandi da inserire sul PowerShell per arrestare e ripristinare il nostro Windows Update. Quindi vai direttamente in descrizione, copi così questo comando e lo inserisci qua e fai invio. Continuare questa operazione, andrà così ad arrestare i servizi di Windows Update poi ad avviarli di nuovo facendo anche un ripristino. Quindi in questo caso premi S e fai invio. Arrestato Continuare questa operazione, facciamo sì e fai invio. Come puoi vedere, avvio, il servizio di Windows Update è riuscito. Servizio richiesto, ho già avviato. In questo caso ora bisogna riavviare il computer. Chiudiamo un attimo qua. Ora quello che ti resta da fare è riavviare il sistema. Una volta riavviato vai un attimo su Servizi. Scendi fino a giù fino a trovare Windows Update. Tipo di avvio metti automatico. Lo stato del servizio se è interrotto clicca su avvia e mettilo in esecuzione e fai applica e fai ok. Se non dovesse bastare, puoi semplicemente andare su risoluzioni problemi, impostazioni risoluzioni problemi, altri strumenti, Windows Update e facciamo esegui. Problemi trovati, il problema è stato risolto. Facciamo no. Più di strumento di risoluzione dei problemi. E chiudiamo qua. Se invece vuoi installare manualmente un aggiornamento che non riesci ad installare automaticamente su Windows Update, puoi semplicemente andare un attimo nella cartella qua per esplorare le risorse. Facciamo questo PC. Discollocare il chip e su Windows scendi fino a giù fino a trovare la cartella che si chiama Software Distribution. Download e cancella la cartella Download. E svuoti il cestino. Ritorna su Windows Update. Verifica disponibilità aggiornamenti. Verifichiamo di nuovo la disponibilità aggiornamenti. E vedi se te lo fa fare qua sopra. Aggiornamenti non riusciti. Quindi mancano alcuni file dell'aggiornamento. Quindi riprova tutte. Se invece vuoi installarlo manualmente puoi semplicemente andare sul catalogo. Eccolo qua. Catalogo di Microsoft Update. Che ti ho lasciato sempre in descrizione. Qui vai a mettere l'aggiornamento del tuo Windows 10 o Windows 11. Circhi così l'aggiornamento da fare. E lo scarichi e lo installi manualmente. Con una logica degli aggiornamenti. Io per esempio prendo questo qua. Faccio copia. Lo metto qua. Ed eccoli qua. Quindi per farti un esempio. Vai a prendere così l'aggiornamento. Proprio come c'è scritto su Windows Update. Faccio download. Clicco qua sopra. Scarico e installo l'aggiornamento. Se un aggiornamento finisce come punto MSU lo puoi scaricare e installare senza nessun problema. Vomente se continui a dire aggiornamenti non riusciti devi riavviare il sistema una volta eseguito tutti quei comandi sul PowerShell. E continui a riprovare. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.